Hai cliccato il video di Scrape Gailer? Grande! Oggi per la prima volta faremo due città in un giorno In questo momento siamo a Pesaro E comunque non vi aspettate che vi do il pane Scordatevelo, questo me lo mangio io Volevo venire inizialmente con le acionchi ma Ho uno strano dolore alla caviglia Niente di che, però comunque Con lei almeno faccio roba Meno dolorosa Partiamo, facciamo un po' un giretto Qua c'è subito una discesa Ok Vediamo un po' la situa Let's go Se non mi tornava sulla ruota Io continuavo dritto Facevo le cose che dovevo fare Bravo, non ho fatto niente Ora puoi dirmi bravo Bravo Disturbiamo un po' la pete No Dai 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 Dio, questa gente Che c***o Guardi, muoviti fine E comunque Sempre io che Negli ultimi periodi Ho fatto più città con il mare Che senza D'inverno Molto logico Ah, questo odore di mare Mi mancava, cavolo Sbucati direttamente in spiaggia Più c***o Comunque non capisco perché fa così la mia bici Sentite che versaccio brutto Pagli ultimano Sbucati direttamente in spiaggia Sbucati direttamente in spiaggia Usi un bel less Sì E oggi vi dovrete sopportare Questo rumore di me E comunque ragazzi se mi seguite su Instagram Avrete visto dalle storie che Ho fatto dei mega sticker Da me Cioè tipo Sì Ruba del genere Questi sono adesivi Enormi E li attaccherò ogni tanto in giro Questo fatto per la prima volta ora Visto mare? E' un po' di più E' un po' di più il navigatore per la stazione mi sono mollato tutta la mano, ho preso la pozzanghera, l'ho realizzato solo adesso mi stavo scordando di attaccare il megadesivo let's go, ci siamo andiamo via da qua e andiamo a Riccione c'è un po' tosse Alla prossima! Sì no vi prego no vi prego voglio farlo immediatamente guardate qua qua sembra di essere in paradiso la strada verso il paradiso bellissimo che roba da troppo gusto per giuro guardate un po' qua dai c'è proprio scritto per scrape geller devo andarci dovrò fare le magie per entrare qua comunque madonna mia assurdo questo è un reel assicurato ve lo giuro è la cosa più soddisfacente che ho fatto tutto oggi ecco metodi per ritornare in strada benissimo ciao Sì, sì, sì. questo non l'ho chiuso rip let's go che gusto fare tutte ste cose raga voi non avete idea veramente prendiamolo un po' utile a sto pezzo di carta anche se comunque siamo al mare c'è poco da aspettarsi io dico ma perché la gente toglie gli adesivi sto neanche mi sto sul p***o veramente classico allora c'è una discesa di là e una di qua non so qual è quella più discesa ne butto di qua dai è stato di più svevole e niente attacchiamo anche questo mega sticker no sono mongoloide no sono mongoloide ora non lo stacco perché se no se ci riprovo non si attacca metto scrip qua e killer sotto facciamo così quanto sono tonto io veramente più o meno ci siamo fa un po' cagare ma vabbè anche oggi abbiamo completato una nuova missione altre città fatte grazie per aver guardato il video fino a qua la prossima città la faremo domani voi il video lo vedrete naturalmente più avanti qualche giorno dopo iscrivetevi dovrebbe essere scontato e niente ci vi chiamo alla prossima ciao guys